Ringrazio anch'io tutti quelli che hanno permesso la realizzazione di questa conferenza stampa che prima dicevo essere la più bella della mia vita perché non è mai capitato di poter fare una conferenza stampa in un ambiente così piacevole. Credo che questo in un certo senso sia anche simbolico del lavoro che stiamo facendo e che anche gli altri fanno ottimamente con il blog perché è un modo di incontrarsi in una maniera diversa, un po' più diretta, un po' più umana se vogliamo dire. Spesso la forma rischia di prendere il sopravvento sul contenuto perché immaginiamo che mettere le cose in una forma più rigida, più in linea con le aspettative sia il modo migliore di incontrare le persone. Questo ci dice un po' che invece funziona anche altro cioè che se mettiamo un po' da parte la forma e proviamo a stare sui contenuti, sulla relazione su quello che le persone cercano e sentono e quello che possono chiedere forse i risultati premiano. In questo senso è un po' anche la modalità con la quale mi sono approcciato a questo blog perché io mi occupo di clinica, di sessualità, di psicologia e quindi sono sempre in contatto con domande, con richieste con la difficoltà che nasce quando le proprie esigenze non sono accolte dalla società o dalle persone che stanno intorno a noi. In particolare per l'uomo, quello che diceva prima bene Roberto in particolare per l'uomo sembra che non ci siano risposte facili, semplici, neutre, umane alle proprie necessità. Se una donna ha una difficoltà, ma ovviamente anche il mondo femminile ha tutta una serie di questioni aperte ma nel particolare quella maschile dal mio punto di vista ha questo aspetto importante quando un uomo è in difficoltà sembra veramente più solo di prima gli uomini sembrano meglio inseriti nella società quando non mostrano non dimostrano una difficoltà, un dubbio, anche una perplessità e allora credo che un po' l'aspetto utile di questo blog degli articoli con i quali contribuisca è quello di cercare di dare delle risposte che siano possibilmente comprensibili, semplici, dirette e centrate su quelle che possono essere le esigenze degli uomini di adesso che quindi non sono assolutamente simili a quelli che ci hanno preceduti e probabilmente non saranno simili neanche a quelli che ci seguiranno. Vorrei concludere cercando di rimandarvi un po' quella che è la mia sensazione nel partecipare a questo blog. Ho iniziato con il dubbio di poter sintetizzare dei concetti che spesso sono complicati e ovviamente non ho la risposta a questo non so se poi il messaggio sarà chiaro, sarà esattamente come io lo intendo però sicuramente è stimolante e il fatto che voi siate qui che ci sia una risposta sia personale che ovviamente come ci dicono anche i numeri tramite il web è un grande stimolo e anche un'ottima motivazione per andare avanti. Grazie.